eccoci nella casetta di orietta che adesso ci spiegherà ciao orietta saluti e bene allora adesso ci spiegherai perché questi brevi video fatti itineranti col tuo camperino perché motivo io ho deciso appunto di l'ora ha intitolato questa questo canale manuale pratico contro la depressione si per carità da pensionata pensionata ecco il mio sesto senso si è suggerito di prendere un camper e girare sempre a girare sempre girare sempre così va bene o girare ancora girare col camper e no ma girare il camper adesso dopo lo giro va bene angelo giri tu da sola perché sei bravissima e quindi bene quindi manuale pratico contro la tristezza la depressione da da pensione da qui è scienza meglio prevenire sì e quindi darai dei consigli pratici su dove andare come andare cosa fare racconterai condivido con le persone insomma delle storie linee divertenti magari così perché così bisogna sempre sorridere sempre sorridere e divertirsi e allora ci porterai con te con la tante cose belle ogni giorno ogni giorno delle cose belle i giorni almeno tre cose belle tre cose belle sì bene mangiare bere no no lasciamo stare questo è un segreto che riveleremo più avanti le tre cose belle che bisogna fare quotidianamente e godersi tutti i momenti basta 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 è troppo lungo questo video basta basta ecco appunto basta cosa vuoi altri sapere darai dei consigli sull'utilizzo del camper no 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 lo fanno già tutti no niente consigli sul camper no niente darai delle informazioni sui posti dove vai no ma no ce ne sono già fin troppo allora che cavolo io condivido i miei momenti di serenità con le persone vabbè speriamo bene io direi non non cliccate sulla campanella lasciate stare perché no vabbè se volete iscrivervi ma anche no al canale io faccio sapere a chi vuole a chi vuole sì è quello che faccio di bello le campane che ti interrompono guarda abbiamo cominciato malissimo come abbiamo cominciato malissimo ma confusione ma guarda che sto facendo una tisana rilassante stai facendo una tisana rilassante sei un po' agitato no e senti le campane senti è una buonissima tisana ascolta senti sono rilassanti rilassanti ma vedi guarda da parte c'è il bagno c'è il bagno ma non si vede il lago ma non c'è il bagno fai un sacco di confusione basta è lunga basta bene allora il canale dei pensiorinati 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 va bene perché si rinasce dopo la pensione si rinasce e si gode dei piccoli momenti durante la giornata qualsiasi momento allora chi ti ama ti segua che vuole intendere in tenda e gli altri in camper in camper vai numero uno e poi io direi facciamola chiusa così e basta va bene bene ciao 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 oh di meno ho di meno